Grazie Presidente, colleghe, colleghi e sottosegretario Ferrante presente. A dire il vero io per la prima volta ho pensato che è bello poter votare favorevole un provvedimento di questo governo perché si parla di decreto legge urgente, infrastrutture, in un momento che è così urgente intervenire, non lo so, sui tratti della Salerno Reggio Calabria che soffrono, soffrono le persone che vanno in vacanza a causa di un deragliamento di un treno merci avvenuto tre settimane fa o ancora la settimana scorsa treni a alta velocità al nord con ritardi di ben oltre 100 minuti. Per non parlare di tutti i disagi a livello aeroportuale nel momento di punta turistica, è come no. Parlerà sicuramente il decreto legge di infrastrutture acquedottistiche irrigue per dare risposte in termini di siccità o aiutare i siciliani che sono senza acqua. Invece proprio no, perché mi sbagliavo di grosso. Questo è un decreto legge omnibus con cui ha poco a che fare con le infrastrutture. E quindi dichiaro immediatamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle al decreto legge non infrastrutture e lo faccio stigmatizzando ancora una volta il ricorso alla fiducia da parte del Governo. Siete arrivati a 60 fiducia, tranne rare eccezione. Stiamo parlando di decine e decine di volte con il Parlamento eletto democraticamente dagli italiani che è ridotto al ruolo di scendiletto da parte di un Governo che si tiene assieme solo grazie a marchette fatte per ringraziarsi i tre soggetti che lo compongono. Ma adesso però veniamo al perché è un omnibus e perché lo avete intitolato alle infrastrutture. Allora, un provvedimento che parte dalle concessioni autostradali per arrivare a misure in materia di sport che passa per la Laguna di Venezia e la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Treati di Bari con un pit stop per il trasporto pubblico locale. Al tema dello stoccaggio geologico di CO2 senza dimenticare una parentesi anche sulla scuola politecnica di Genova e sul codice di procedura penale. Questo è veramente il nulla mischiato con il niente, come si direbbe in Sicilia. Tutto fumo e niente arrosto. E vi ho trattato perché poi con le integrazioni che avete inserito nei lavori in Commissione nei fatti siete arrivati ad un vero e proprio insalatone. Mancano due ingredienti. A dire il vero, uno di questi ingredienti qualcosa con le infrastrutture ce l'ha a che fare almeno nella testa del Ministro Salvini, il ponte sullo stretto di Messina. E in vero si è capito quindi a cosa serviva questo decreto legge. Salvini aveva detto che i lavori avrebbero avuto inizio entro l'estate del 2024. E come fa Salvini a non rispettare la sua parola? Fa niente che non ci sia il progetto esecutivo, non ci sia il piano di espropi, non ci siano le indagini dettagliate, non ci sia lo studio del gigantismo navale. Fa niente che la società dello stretto di Messina e Seppiano non abbia ancora risposta le 239 integrazioni che le ha fatto il Ministero dell'Ambiente e per la Sicurezza Energetica solo nell'aprile del 2024. Avete sentito bene. Questo decreto legge fa sì che i cantieri possano avviarsi senza il progetto esecutivo. Lo stesso ponte con cui voi nel decreto ponte dell'anno scorso avevate detto che il progetto esecutivo doveva essere pronto entro il 31 luglio del 2024. Ma Salvini è uomo di parola e non potendo varare un calendario leghista che gli consentisse di dire a caso i giorni, i mesi e l'anno, beh, lo metto dopo è più tardi, Con questo decreto legge autorizza il MIT ad approvare il progetto esecutivo testualmente anche per fasi costruttive. In sostanza si possono avviare i cantieri e rimandare l'approvazione dei progetti esecutivi alla fase di lavoro in corso. Così sarà rispettata la sua promessa di avviare i cantieri entro il 2024 e porre rimedio a quella figuraccia sulla forza lavoro occupabile dal ponte. Ve lo ricordate? Ottobre 2022, 120.000 posti di lavoro. Poi però qualche mese dopo, no, vabbè, un po' più di 100.000. Ah, nel novembre del 2023 saranno circa 50.000. Siamo arrivati a poco meno di 20.000. Vi stupite? Io non mi stupisco perché del ponte c'è poco più di un'idea. Qualcuno dovrebbe spiegare a Salvini, mi riferisco per il tramite del sottosegretario Ferrante, che senza un progetto esecutivo non si possono stimare gli occupabili perché col progetto si calcono gli uomini giorno e da lì gli occupabili. È molto facile, ci vuole un progetto. Questa davvero sembra una barzelletta. E probabilmente così la percepiranno in Europa, visto che iniziano a venire alla luce con certezza alcune lacune. La prima, come si fa a parlare del costo complessivo di un'opera se non esiste un progetto? Ricordo a tutti che non esiste un progetto definitivo approvato, che siamo in attesa delle risultanze della via e della VAS. La seconda si rimanda ad uno spezzatino di progetti esecutivi distinti per cantieri come se parti del ponte sullo stretto potessero essere realizzati come lotti funzionalmente indipendenti. Ma stiamo scherzando. Ma il ponte sullo stretto, come tutti gli altri ponti, non si può realizzare per lotti perché non è mica un'autostrada che tu inizi a realizzarla, finisci una tratta e mentre continui con il resto dell'autostrada, quella tratta la apri da casella a casello e inizi ad usarla. Non è mica un palazzo di più piani che le persone iniziano a costruire il grezzo, una volta finito terminano un piano, iniziano a vivere, finiscono i soldini e dice più in là finirò tutto il palazzo. Ecco, Salvini sta creando tutte le premesse per produrre, qualora questa barzelletta dovesse iniziare a diventare in realtà la più grande incompiuta della storia della Repubblica italiana. Anzi aggiungo, questa sarà un'incompiuta per stracci perché vuoi vedere una quindicina di metri la facciamo come pilone sulla costa calabrese, una ventina su quella siciliana, che ne so, un bel faraglione in mezzo allo stretto. Ce l'ha capo il faraglione per Salvini, non lo può avere anche lo stretto di Messina. Vabbè, già la scorsa settimana noi eravamo molto preoccupati perché ci siamo dovuti piegare alla vostra volontà di lasciare da soli i comuni perché venivano esclusi dal condizionare le sanatorie al rispetto della normativa di igiene, di salubrità, di efficientamento energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche. Era proprio nulla rispetto ad oggi quando si possono aprire cantieri senza progetti. Allora gli italiani si staranno domandando perché devo spendere soldi per predisporre un progetto dal mio ingegnere, dall'architetto, dal geometra per avere e per richiedere un permesso a costruire quando lo Stato non richiede il progetto per la più grande opera del Paese perché, ecco, forse è così sì che state continuando nel vostro solco di illegalità. Tra poco arriverete ad autorizzare i cittadini non col progetto a costruire ma semplicemente con un'idea di costruire e poi arrivato alla fine dei lavori anziché un progetto gli date direttamente la sanatoria. Assurdo anche quello che avete combinato con il piano Mattei. Mi spiace dirlo, anche esso è poco più di un'idea. Innanzitutto lo schema prevede l'avvio del piano Mattei senza che esso passi preventivamente per le camere e come hanno dichiarato praticamente tutti i soggetti auditi in commissione sul tema del piano Mattei si fa beffe della trasparenza. Ma andiamo nel dettaglio. Che cosa combinate? Voi andate a prendere i soldi dal Fondo Italiano per il Clima e dalle risorse della cooperazione allo sviluppo e in particolare il primo fondo, il Fondo Italiano per il Clima è un fondo che è stato supportato da tutti i principali partiti della scossa legislatura tranne che da Fratelli d'Italia che è un fondo che serve per finanziare progetti di contrasto ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Ecco voi cosa fate? Prendete parte di quelle risorse, non si sa quanto è perché mica lo dichiarate prendete parte di queste risorse e le utilizzate anche per interventi come estrazione di oil e gas. Quindi voi usate fondi che servono per tutelare il clima per interventi che servono per svantaggiare, per attaccare, per distruggere il clima. Anche in questo caso è un vero e proprio disastro annunciato. A corollario poi di quanto accaduto aggiungo a quanto accaduto poi in Commissione Ambiente dove per accelerare i lavori ci siamo visti presentare nel Decreto Legge Infrastrutture il sottosegretario del Ministero della Salute ci siamo preoccupati per la salute giustamente durante i lavori in Commissione poi dopo si sono resi conto, Presidente Fontana sembra una barzelletta, è arrivato il sottosegretario del MEF deve spendere qualcosa di soldi quindi è giusto che ci sia quello del MEF poi alla fine è arrivato il sottosegretario del MIT poi dopo un po' hanno iniziato a sostituirsi insomma Presidente è evidente che per il Governo questo obbedimento si affronta come dei giocatori di calcetto, di calcio a 5 alla prima esperienza che dopo un po' di tempo non ce la fanno più e devono riposare e quindi vanno sostituiti siamo proprio a livello di dilettanti allo sbaraglio ma la cosa drammatica è che sia per il Ponte sullo Stretto che per il Piano Mattei avete bocciato delle proposte in Commissione da parte delle opposizioni che servivano ad una cosa semplice dare dignità al Parlamento soprattutto per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto abbiamo chiesto di trasmettere ogni sei mesi alle Commissioni di competenza un'informativa di aggiornamento non la richiesta di un parere, un'autorizzazione un aggiornamento e infatti abbiamo detto al Presidente di Commissione ma allora questa Commissione a che cosa serve se non può essere nemmeno aggiornato su Ponte sullo Stretto o su Piano Mattei noi non possiamo girarci dall'altra parte e rimanere in silenzio dinanzi a cotanta sete di interesse di partito intendendo proprio interesse delle parti voi non lo farete in nostro nome grazie grazie